Per Cibo per la Mente, questa volta siamo venuti nella cabina di regia di una sala cinematografica. Questa è da dove il film parte. Sì, davvero, siamo in una cabina di regia speciale, la cabina del Cinema Odeon, che come sapete ospita tantissimi festival e iniziative culturali. Vediamo ancora delle pellicole su delle bovine, quindi si usano ancora, non siamo solo sul digitale. Ebbene sì, ai festival capita ancora di recuperare qualche pellicola quando parliamo di rassegno di film che hanno ormai qualche anno. E siamo qui per presentare un nuovo festival promosso dalla Toscana Film Commission. Esattamente, dall'8 all'11 maggio avremo sempre qui al Cinema Odeon il festival di cinema giapponese, che esiste già da qualche anno ma che quest'anno cambia veste e cambia anche nome. Si chiamerà WA, Japan Film Festival. Prevederà molte iniziative anche collaterali, quindi non solo cinema, ma anche cucina, degustazioni, addirittura una parata di kimono che invaderà il centro storico di Firenze. Quindi, insomma, tante occasioni per conoscere da vicino la cultura giapponese. E cosa ci puoi dire del cinema giapponese? Perché può essere interessante conoscerlo? È un cinema che affronta tematiche e gusti diversi, un po' per tutti i pubblici. Avremo in questa edizione una rassegna specifica dedicata al documentario, ma anche ai cortometraggi. Sono moltissimi giovani autori, soprattutto, che si avvicinano a questa tipologia di cinematografia. Avremo poi una sezione sui manga, che come non tutti sanno è il famoso fumetto giapponese. Che ha tanti estimatori anche qua in Italia. Davvero, e non soltanto i più piccoli, anzi, viene considerato un genere per persone di cultura più grandi che già conoscono la storia del cinema e della cultura del paese che raccontano. Ci saranno poi, come anche l'anno scorso, tanti ospiti internazionali, sia produttori che registi, ma anche attori. E noi parliamo di un film in particolare, che è quello che apre la rassegna. Qual è? Ha un titolo un po' difficile. Devo dire, quindi preferisco leggervelo. È di un famoso regista giapponese, che è Kiyoshi Sasabe. Racconta una storia delicata, familiare, interamente girata nella profottura di Kagoshima, con cui il festival quest'anno ha un gemellaggio. Il titolo è Rokugatsudu no San Shimai. Mi scuso, fin da ora per la pronuncia sicuramente errata. Vi aspettiamo perché se Shiro Nashida, l'attore protagonista, un famoso attore giapponese, sarà qui presente al festival per presentarlo e per incontrare il pubblico in sala. Grazie a tutti.